mister è vero è solo una vittoria ma che valore ha da un punto di vista psicologico questa affermazione tanto una vittoria che mancava non c'è mai stata e quindi già di per sé un valore fondamentale importante poi soprattutto per l'aspetto morale perché la prestazione buona no come c'è stata a carrara però non ti da punti ti fa lavorare con meno entusiasmo anche se la settimana è stata una settimana bella sotto l'aspetto lavorativo però la vittoria sicuramente la possibilità di di essere sempre più credibile di di essere mentalmente pronto a sacrificarti perché poi con lavoro vedi che i risultati vengono abbiamo fatto qualcosa inattiva quindi anche questo è da autostima per quello che si prova quindi su tutte situazioni che aiutano chiedo quali corde ha toccato tra primo e secondo tempo perché se l'approccio era stato positivo anche nel primo tempo nella ripresa c'è stata un'ottima continuità di gioco avete segnato due gol uno è stato annullato creato diverse occasioni legittimato cosa è successo ma è vero abbiamo iniziato bene ma abbiamo finito non bene abbiamo preso gol e dobbiamo arrivare a non prendere gol ma soprattutto se dobbiamo prendere gol prendere gol perché gli avversari sono bravi in questa situazione siamo stati ancora noi disattenti perché su una rimessa laterale abbiamo preso un gol veramente evitabilissimo e abbiamo rischiato anche su un'altra su un'altra condizione quindi le occasioni che gli abbiamo concesso state per per poca concentrazione in quelle situazioni e lì sicuramente dobbiamo dobbiamo migliorare ma il lavoro dell'allenatore io penso che sia facile quando devi allenare la squadra su qualche cosa no quindi vai puoi andare su internet puoi prendere un libro impari a memoria e alleni poi c'è tutto il resto che è l'aspetto più difficile che quello mentale quello di gestione del gruppo quello di chimica che devi creare con i tuoi giocatori e non puoi crearlo con tutti perché poi chi gioca perché quando fai giocare qualcuno tu sei più bravo quando non fai giocare sei più scemo e quindi questa è la normalità però devi riuscire a essere credibile con tutti e le corde che vai a toccare sono in questo momento secondo me devono essere quelle dell'orgoglio ho usato ho preso tanto spunto dalle parole che ci ha detto il presidente ieri perché ritengo che il nostro presidente sia perché sennò si pensa il nostro presidente sotto l'aspetto economico invece non ha un valore aggiunto come persona perché io da che ho avuto la possibilità di parlarci mi da mi lascia sempre qualcosa perché una persona di una complessità quando lo vai quando provi ad analizzarlo poi dopo quando ci parli di una semplicità disarmante quindi mi lascia sempre qualcosa e e ho sfruttato le sue parole glielo ho detto prima ha detto che vuole che gli paghi il copyright perché ho usato le sue parole quindi tornando alla alla domanda l'aspetto di morale l'aspetto della determinazione l'aspetto della rivincita l'aspetto dell'orgoglio sono sicuramente quelle le corde che devi andare a toccare